Torna la via, dove tu passi, fiorisce il deserto, dove tu guardi, si rischiara il cielo, che in fondo al cuore torna il cielo, dove tu sei, dove tu sei. Torna la via, dove tu passi, fiorisce il deserto, dove tu guardi, si rischiara il cielo, si rischiara il cielo, che in fondo al cuore torna il sereno, dove tu sei, dove tu sei. Dove tu sei, torna la via, dove tu sei. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Lo dà. Anche oggi il Santo Padre ha dato una intenzione di preghiera tutta particolare. Il Papa questa mattina, alla Messa di Santa Marta, ha detto così. Ieri ho ricevuto una lettera di un gruppo di artisti, ringraziavano per la preghiera che noi abbiamo fatto per loro. Vorrei chiedere al Signore che la li benedica, perché gli artisti ci fanno capire che cosa è la bellezza. E senza il Bello, il Vangelo non si può capire. Preghiamo un'altra volta per gli artisti. Signore viene presto e mi aiuti. Glorie al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe di Maria. Gesù, perdona le nostre colpe. Presenta il suo uomo dell'inferno. Porta il cielo, per le animi, specialmente le due bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace, prega per noi, per il mondo intero. Nel primo mistero della luce, contempliamo il battesimo di Gesù al Giordano. Gesù si immerge nelle alpe del Giordano, dove simbolicamente restavano i peccati del popolo. È come se Gesù si rivestisse del peccato nostro, appreso su di sé i nostri peccati. Ecco, pensiamo che anche i nostri peccati Gesù li ha fatti suoi, per toglierli a noi. Lasciamici amare da Gesù. Padre nostro che sei Gesù, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane e quali piano, rimetta a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. I nomi al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora è sempre, nei secoli dei secoli anni. Lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe di Maria, Gesù, perdona le nostre colpe. Presentaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo, tutte le cani, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della pace, prega per noi e per il mondo intero. Nel secondo mistero della luce contempliamo l'autorivelazione di Gesù alle nozze di Cana. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così te. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta e frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta e frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta e frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta e frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta e frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta e frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta e frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta e frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta e frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta e frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era il principio, ora e sempre, nei secoli e nei secoli anni. L'ho nato sempre sia. Il Santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria. Gesù perdona le nostre colpe, preservati dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anni, specialmente le più sognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Nel terzo mistero della luce contempliamo l'annunzio del Regno di Dio con l'invito alla conversione. Chiediamo per noi tutti la grazia della conversione. Non diventare più buoni. Cambiare vita come Dio vuole. Padre nostro, che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo Regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Danci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetta a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal mare. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ad esse, nell'ora della nostra morte, amore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ad esse, nell'ora della nostra morte, amore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ad esse, nell'ora della nostra morte, amore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ad esse, nell'ora della nostra morte, amore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ad esse, nell'ora della nostra morte, amore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ad esse, nell'ora della nostra morte, amore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ad esse, nell'ora della nostra morte, amore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ad esse, nell'ora della nostra morte, amore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ad esse, nell'ora della nostra morte, amore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ad esse, nell'ora della nostra morte, amore. Glorie al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli, amore. Lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria. Gesù perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le animi, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quarto mistero della luce, contempliamo la trasfigurazione di Gesù sul tavolo. Mentre era sul tavolo, insieme a Pietro, Giacomo e Giovanni, e pregavano, Gesù si trasfigura. Si fa vedere nella gloria del Padre. La preghiera autentica ci trasfigura, ci fa diventare simili a Gesù, ci cambia la vita. Padre nostro, Padre nostro che sei nei cieli, sia santo il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Com'era il principio, ora e sempre, nei secoli e nei secoli. Amen. Lodato sempre sia, il Santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria. Gesù perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le animi, specialmente le più bisognose, nella tua misericordia. Nel quinto mistero della luce, contempliamo l'istituzione dell'Eucaristia. Vogliamo chiedere al Signore una grazia speciale. In questo periodo non siamo potuti andare all'Eucaristia, alla Messa. Adesso, fra qualche giorno, sarà possibile da capo partecipare all'Eucaristia, ma non come prima. Andiamo all'Eucaristia comprendendo cosa significa l'Eucaristia. Ecco, chiediamo questa grazia al Signore. Padre nostro, che sei leggero, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetta a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, pieni di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta a fare donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad esse, nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta a fare donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad esse, nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta a fare donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad esse, nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta a fare donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad esse, nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta a fare donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad esse, nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta a fare donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad esse, nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta a fare donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad esse, nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta a fare donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad esse, nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta a fare donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad esse, nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta a fare donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad esse, nell'ora della nostra morte. Glorie al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e di Maria. Gesù perdona le nostre morte, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Maria, Regina della pace, prega per noi e per il mondo intero. Santa Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te sogniamo, noi figli di Eva, a te sostituiamo, viventi e viventi, in questa valle di lacrime. O sognunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi di sedicordiosi, e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o prevede, o via, o dolce Vergine Maria. Preghiamo secondo le intenzioni del soffo potetice di Papa Francesco, e in lui preghiamo per tutta la Chiesa e tutta l'umanità. Padre nostro che sei dicendo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetta a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad esse nell'ora della nostra morte. Amen. Preghiamo per tutti quelli che si raccomandano alla nostra preghiera. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad esse nell'ora della nostra morte. Amen. Preghiamo per tutte le anime del Vurgatorio, l'Eterno riposo, don all'oro, Signore, che spenga a essi la luce perfetta, riposino in pace. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, ascoltaci. Cristo, ascoltaci. Cristo, esaudisci. Cristo, esaudisci. Padre del Cielo, che sei Dio. Abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo, che sei Dio. Abbi pietà di noi. Spirito Santo, che sei Dio. Abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio. Abbi pietà di noi. Santa Maria. Prega per noi. Santa Madre di Dio. Prega per noi. Santa Vergine delle Vergine. Prega per noi. Madre di Cristo. Prega per noi. Madre della Chiesa. Prega per noi. Madre della Divina Grazia. Prega per noi. Madre Purissima. Prega per noi. Madre Castissima. Prega per noi. Madre sempre Vergine. Prega per noi. Madre Immacolata. Prega per noi. Madre degna di amore. Prega per noi. Madre Ammirabile. Prega per noi. Madre del Buon Consiglio. Prega per noi. Madre del Creatore. Prega per noi. Madre del Salvatore. Prega per noi. Madre di Misericordia. Vergine Prudentissima Vergine Degna di Onore Vergine Degna di Lode Vergine Potente Vergine Clemente Vergine Fedele Specchio della Santità Divina Sede della Sapienza Causa della nostra Letizia Tempio dello Spirito Santo Tabernacolo dell'Eterna Gloria Divora tutta consacrata a Dio Rosa Mistica Torre di Davide Torre di Avoglio Casa d'Oro Arca dell'Alleanza Porta del Cielo Prega per noi Stella del Mattino Prega per noi Salute degli infermi Prega per noi Rifugio dei peccatori Prega per noi Consolatrice degli affritti Prega per noi Aiuto dei cristiani Prega per noi Regina degli altri Prega per noi Regina predori Prega per noi Regina dei martiri Prega per noi Regina dei beni cristiani Prega per noi Regina delle Belgi Prega per noi Regina dei tutti i sant' prega per noi, regina concepita senza peccato originale, prega per noi, regina assunta in cielo, prega per noi, regina del Santo Rosario, prega per noi, regina della famiglia, prega per noi, regina della pace, prega per noi, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi, prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo, preghiamo, conceda ai Tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore. Amore. Sotto la Tua posizione cerchiamo di tutti, Santa Madre di Dio. Nella presente situazione drammatica, carica di sofferenze e di angosce, che attanare il mondo intero, ricorriamo a Te, Madre di Dio e Madre nostra, e cerchiamo rifugio sotto la Tua protezione. O Vergine Maria, volgi a noi i Tuoi occhi misericordiosi, in questa pandemia del coronavirus, e conforta quanti sono smarditi e piangenti per i loro cari morti, se volti a volte in un modo che ferisce l'anima. Sostieni quanti sono angosciati per le persone ammalate, alle quali per impedire il contagio non possono stare vicini. In fondo, in fiducia, in chi è in ansia per il futuro incerto, e per le conseguenze sull'economia e sul lavoro. Madre di Dio e Madre nostra, implora per noi, da Dio Padre di misericordia, che questa dura prova finisca e che ritorni un orizzonte di speranza e di pace. Come a Cana, intervieni presso il Tuo Figlio Divino, chiedendogli di confortare le famiglie dei malati e delle vittime e di aprire il loro cuore alla fiducia. Proteggi, i medici, gli infermieri, il personale sanitario, i volontari che in questo periodo di emergenza sono in prima videa e mettono la loro vita a rischio per salvare altre vite. Accompagna la loro eroica fatica e dona loro forza, bontà e salute. sia accanto a coloro che notte e giorno assistono i malati e ai sacerdoti che con sollecitudine pastorale e impegno evangelico cercano di aiutare e sostenere tutti. L'Erdine santa illumina le menti degli uomini e delle donne di scienza perché trovino giuste soluzioni per vincere questo virus. Assisti i responsabili delle nazioni perché operino con saggenza, sollecitudine e generosità soccorrendo quanti mancano del necessario per vivere programmando soluzioni sociali ed economiche con lungimiranza e con spirito di solidarietà. Maria Santissima, tocca le coscienze perché le ingenti somme usate per accrescere e perfezionare gli armamenti siano invece destinate a promuovere adeguati studi per prevenire simili catastrofi in futuro. Madre amatissima, fa crescere nel mondo il senso di appartenenza ad un'unica grande famiglia nella consapevolezza del legame che tutti unisce perché con spirito fraterno e solidale veniamo in aiuto alle tante povertà e situazioni di miseria incoraggia la fermezza della fede la perseveranza nel servire la costanza nel pregare O Maria, consolatrice degli afflitti abbraccia tutti i tuoi figli tribolati e o chiedi che Dio intervenga con la sua mano onnipotente a liberarci da questa terribile epidemia cosicché la vita possa riprendere in serenità il suo corso normale ci affidiamo a te che risplendi sul nostro cammino come segno di salvezza e di speranza O clemente, O Dia, O dolce Vergine Maria Ame Il Signore sia con voi e con il tuo spirito vi benedica Dio nipotente Padre e Figlio e Spirito Santo Ame Sia lodato Gesù Cristo Sempre sia lodato Dove tu sei Torna la via Torna la via Dove tu passi Fiorisce il deserto Dove tu guardi Si rischiara il cielo E in fondo al cuore Torna il cielo Dove tu sei Dove tu sei Dove tu sei Dove tu sei Torna la via Dove tu sei Dove tu sei Torna la via Dove tu sei Dove tu sei Dove tu sei Si rispia il cielo, in fondo al cuore, torna il sereno dove tu sei, dove tu sei. Si rispia il cielo, in fondo al cuore, torna il sereno dove tu sei, dove tu sei, dove tu sei, dove tu sei.